L'assist glielo aveva fornito poco prima di Natale il sindaco di Capannori Luca Menesini e Mimo D'Alessandro con il suo fiuto da imprenditore presta oggi volentieri il fianco alla proposta del primo cittadino, portare cioè concerti del Luca Summer Festival anche all'aeroporto di Tassignano. Una idea che il promoter lancia e rilancia da anni, ma stavolta tutto sembra essere diverso, già perché di recente l'amministrazione comunale di Capannori ha ottenuto il via libera da ENAC alla concessione dell'aerostazione, che adesso può essere gestita senza intermediari. Così un sogno accarezzato negli anni potrebbe divenire realtà. Ormai però, è cauto lo stesso da Alessandro, bisognerà attendere l'edizione 2016, qualora il tutto andasse in porto. E la volontà c'è, almeno quella dell'organizzatore del Summer che ha manifestato l'intenzione di contattare al più presto Menesini. Diverso è invece l'atteggiamento nei confronti della giunta Tambellini a Lucca, con la quale regna ancora il gelo. D'Alessandro, che con il 2014 ha chiuso con il Winter Festival, si lamenta di non aver ricevuto ancora risposte sul piano della comunicazione per l'edizione del 2015, un piano che contiene anche la proposta di installare le max iscritte che la scorsa estate erano state fatte rimuovere dalla sovrintendenza. E c'è da scommettere che Scena andrà, probabilmente, una nuova telenovela.